Mister Lilli, un piccolo passo indietro come gioco, poi sul 2-0 farsi raggiungere, c'è stato qualcosa di diverso in questa squadra? Ma, io sai, adesso dopo la partita hai una visione della panchina di un certo tipo e quindi delle sensazioni, quindi la devi rivedere. Io credo che quando una squadra va sul 2-0, anche con delle buonissime giocate, anche se c'è l'episodio avverso, deve avere più serenità, più tranquillità nel capire determinate situazioni. E questo ci ha costato il pareggio e poi dopo posso dire a questi ragazzi, come gli ho detto alla fine della partita, di essere orgogliosi di allenarli perché con un in meno, con una squadra che aveva la partita dalla sua, andare sul 3-2, prendere il 3-3, rischiare diverse volte di prendere il 4-3, ma anche di farlo il 4-3, di andare alla fine anche a vincerla, c'è solo da fargli gli applausi. Dopo gli errori li vedremo e li analizzeremo in settimana per cercare di ripetere più. Un punto guadagnato, forse due punti persi, però la partita è finita 3-3. Gli arbitri sono sempre in prima linea, ma come mai sono così scarsi? Non lo so, io ripeto, l'ho detto già altre volte, voglio sperare che siano scarsi, perché se ci fosse malafede sarebbe veramente grave la cosa. Non so cos'è, comunque so solo che noi sono quattro partite, quattro volte che subiamo un arbitraggio scandaloso, quindi ci faremo di nuovamente risentire nelle sedi opportune, perché veramente è incredibile. La squadra ha fatto un piccolo passo indietro, mi sembra, a livello organizzativo. No, la squadra è partita, a parte i primi cinque minuti loro, poi dopo siamo usciti bene, siamo andati sul 2-0, abbiamo rischiato un paio di volte di andare sul 3-0, poi dopo l'arbitro ha regalato quel rigore, come spesso capita qui, e da lì è subentrata un po' di paura, dove noi tenete presente che siamo una bambina o un bambino che ha tre mesi di vita, quindi stiamo migliorando giorno per giorno, abbiamo bisogno di fiatamento, è normale che quando subisci un 2-1 così, con un rigore inesistente, subentra un po' di paura, da lì siamo andati un po' in palla. Però comunque l'abbiamo ripresa, siamo stati in 10, l'abbiamo ribaltata, ma io voglio solo parlare veramente della gestione della partita da parte degli abiti, che veramente non so cosa dire, non so più come leggerla. La prossima volta ne devi far tre per vincere. La firma come è, il pallone con le firme fa piacere. No dai, sono contento diciamo in modo generale, perché comunque sono due gol che servono per il morale mio e per il morale della squadra. Dispiace perché comunque eravamo in vantaggio e ci siamo fatti recuperare, diciamo, anche per un po' la bravura loro, perché comunque non hanno mollato un minuto, noi non ci siamo comportati diciamo male, non è che siamo così colpevoli. In 10 l'avete ribaltata, poi? Sì, questa squadra dimostra tutte le volte, e da quando sono arrivato qua, che dimostra che c'è un gran carattere. C'è da lavorare molto, perché sicuramente qualche punto in più ce lo meritavamo. Avete visto voi la partita, è andata come è andata, un po' qualche decisione, un po' dubbia, dopo compromette un po' anche l'andamento della partita, però ripeto, a noi non ci deve interessare alla fine, perché dobbiamo guardare che alla fine abbiamo preso un punto, era meglio prenderne tre, non sono arrivati, come abbiamo detto nello spogliatoio, continuiamo a lavorare perché questo gruppo ha dei valori.